buongiorno ragazzi cominciamo oggi con la correzione degli esercizi che vi avevo assegnato sulle leve comincerei dall'esercizio svolto il numero 6 di pagina 195 in una caraffa di vetro di massa 1,2 kg Matteo versa 2,3 litri di acqua l'avambraccio di Matteo è lungo 40 cm e il suo bicipite è distante 4 cm dal gomito che genere di leva sta utilizzando Matteo e qual è la forza esercitata dal bicipite per tenere sollevata la caraffa come al solito schematizziamo la situazione qua abbiamo il fulcro qua la forza resistente e la forza motrice che è quella esercitata dal braccio di Matteo da questa schematizzazione ci accorgiamo che è una leva del terzo genere come avevamo già evidenziato la volta nella lezione scorsa allora da che cosa è data la forza resistente? la forza resistente è data in realtà dalla forza peso dove questa forza peso è determinata dalla massa del bicchiere della caraffa di 1,2 kg e dalla massa dell'acqua dice che aggiunge 2,3 litri di acqua cioè 2,3 kg quindi la forza resistente è uguale al peso che è il peso della caraffa più il peso dell'acqua e quindi possiamo scriverla in questo modo il testo poi ci dice che l'avambraccio di Matteo è lungo 40 cm cioè in altre parole il braccio della forza resistente è 40 cm e che invece il suo bicipite è distante 4 cm dal gomito quindi ci sta dando praticamente il braccio della forza motrice qual è la forza esercitata dal bicipite per tenere sollevata la caraffa? quindi ci chiede la forza motrice ripartiamo sempre dalla solita relazione da cui in questo caso dobbiamo ricavare la nostra forza motrice e visto che il rapporto fra il braccio resistente e il braccio motore è di 10 ho 10 volte la forza resistente che è data appunto dalla forza peso dei due oggetti cioè della caraffa e dell'acqua e quindi il risultato è 3,4 per 10 alla seconda newton dal grafico dell'esercizio 66 possiamo ricavare il rapporto fra la forza motrice e la forza resistente visto che di fatto quella che viene rappresentata è una retta e facendo il rapporto fra l'incremento in y e l'incremento in x trovo appunto il rapporto fra le due forze cioè avrò che la forza motrice è due quinti della forza resistente visto che la forza motrice è inferiore alla forza resistente allora si tratta di una leva vantaggiosa mi serve poi determinare il rapporto fra i due bracci fra il braccio motore e il braccio resistente riparto sempre dalla solita relazione e quindi ricavo che il rapporto fra i due bracci è il rapporto fra le due forze sapendo che la forza motrice è due quinti della forza resistente ottengo quindi come risultato 5 mezzi che è 2,5 pare che Archimede da Siracusa abbia detto datemi una leva e vi solleverò il mondo quanto dovrebbe essere lunga una leva di primo genere quindi questa è la nostra leva di primo genere con una forza motrice a un estremo e una forza resistente all'altro estremo e questa è la lunghezza richiesta per equilibrare la trazione gravitazionale che il sole esercita sulla terra allora la voglio equilibrare con una forza di 150 newton quindi è la forza motrice e questa trazione gravitazionale è dell'ordine di 10 alla 22 newton e poi dice che possiamo immaginare il braccio della forza resistente dell'ordine della decina di chilometri effettivamente noi qua abbiamo messo un fulcro in questo punto ma per farlo funzionare sarà appunto in questo punto e questo qua è il nostro braccio resistente per trovare la distanza non dobbiamo fare altro che sommare il braccio resistente e il braccio motore e per trovare il braccio motore ricordo sempre la solita relazione delle leve e ottengo 6,7 per 10 alla 23 metri il cui ordine di grandezza è di 10 alla 24 metri e quindi a questo punto sommando 10 alla quarta metri il mio risultato sarà appunto 10 alla 24 metri un bambino è seduto a uno dei due estremi di un'altalena a 2,12 metri dal fulcro centrale quindi la nostra altalena è una leva di primo genere quindi la distanza del bambino è di 2,12 metri e il padre lo fa giocare premendo l'altro braccio dell'altalena a 1,56 metri dal centro il peso del bambino quindi la nostra forza resistente che non è altro che il peso del bambino è di 170 newton quale forza deve esercitare il padre in direzione perpendicolare all'altalena per fare in modo che questa rimanga in posizione orizzontale e non ruoti allora partendo dalla nostra relazione delle leve otteniamo quindi la forza motrice capiamo quindi che una volta schematizzata la nostra leva diventa abbastanza semplice risolvere il problema dal punto di vista matematico non offre grandi sfide l'esercizio 72 parla ancora di una leva di primo genere dice che i bracci della forza motrice e della forza resistente sono rispettivamente 2,50 metri e 0,80 metri e che la forza motrice ha un'intensità di 15 newton qual è la forza resistente per equilibrare questa leva? sempre ripartendo dalla nostra relazione ricaviamo quindi che la forza resistente che è la nostra incognita è pari a 47 newton l'esercizio 73 parla di una leva di terzo genere quindi ci sarà in realtà la forza motrice compresa fra la forza resistente e il fulcro della leva in una leva di terzo genere i due bracci misurano 80 e 55 mm quindi il braccio resistente è il più lungo e il braccio motore quindi è di 55 mm la leva è in equilibrio sotto l'azione di una forza resistente di 5,7 newton e quindi ci chiede l'intensità della forza motrice allora in questo caso siccome abbiamo bisogno del rapporto fra i due bracci non abbiamo bisogno di trasformare i millimetri ci teniamo tranquillamente la misura in millimetri il risultato sarà di 8,3 newton Roberto sta pulendo il pavimento con una scopa lunga 1,50 metri impugna la scopa con entrambe le mani la sinistra all'estremità e la destra più in basso non è così facile rappresentare questo caso in ogni caso qua ho la mano sinistra e qua invece ho la mano destra sul pavimento c'è un secchio di massa 5 kg e Roberto lo sposta con la scopa muovendo la mano destra quindi in realtà se io voglio spingerlo in questa direzione in questo verso questa sarà la forza resistente qua avrò una forza motrice e questo sarà in realtà il fulcro della leva quindi sappiamo di fatto che il braccio della forza motrice sarà pari a 30 cm mentre il braccio della forza resistente sarà pari a 1,50 metri allora il secchio di 5 kg che Roberto vuole spostare ha un coefficiente d'attrito con il pavimento pari a 0,60 quindi di fatto la nostra forza resistente che eserciterà Roberto con la scopa è pari di fatto alla forza d'attrito e quindi sarà uguale al coefficiente d'attrito per il peso del secchio che ricordiamo ha una massa di 5 kg e quindi sarà coefficiente d'attrito per la massa per la gravità che genere di leva è la scopa? è una leva di terzo genere e quindi in realtà è di fatto una leva svantaggiosa in effetti troveremo che la nostra forza motrice è maggiore rispetto alla forza resistente ed il risultato è di all'incirca 150 newton usando il corretto numero di cifre significative il meccanismo della serranda del negozio di un tuo amico si è rotto e lui è rimasto chiuso fuori devi sollevarla di almeno 35 cm per permettergli di entrare 35 cm è in realtà un dato inutile la serranda ha una massa di 230 kg hai a disposizione una leva lunga 2,30 metri e la forza massima che puoi esercitare è di 350 newton quindi si tratta di una leva del primo genere qua abbiamo una forza resistente che è di fatto uguale al peso della nostra serranda quindi sarà massa per gravità dove la massa è di 230 kg qua abbiamo una forza motrice che conosciamo ed è di 350 newton poi ci dà la lunghezza di tutta la leva che è di 2,30 metri e ci chiede a quale distanza dalla serranda bisogna posizionare il fulcro della leva quindi di fatto ci sta chiedendo il nostro braccio resistente che indichiamo con x mentre il braccio motore lo indichiamo con d-x allora vale sempre la relazione che braccio motore per forza motrice è uguale a braccio resistente per forza resistente a questo punto sostituiamo cioè al posto di braccio motore mettiamo d-x moltiplicato per la forza motrice e al posto del braccio resistente mettiamo x dobbiamo isolare la x allora ricordando che la nostra forza resistente è di fatto massa per gravità e sostituendo tutti i valori numerici otteniamo 0,31 metri cioè 31 centimetri l'esercizio numero 79 parla di uno schiaccianoci quindi di fatto sta parlando di una leva del secondo genere per rompere il guscio di una noce sofia usa uno schiaccianoci la noce vista dal fulcro quindi ci sta dicendo ci sta dando il braccio resistente 2,5 centimetri sofia vorrebbe esercitare una forza inferiore del 70% alla resistenza massima quindi la sua forza motrice deve essere inferiore del 70% quindi non al 70% della nostra forza resistente ma deve essere inferiore del 70% noi per i nostri calcoli quindi prenderemo l'uguale e quindi diremo che la distanza deve essere almeno di la distanza che ci viene chiesta è il nostro braccio motore quindi sapendo che braccio motore per forza motrice è uguale a braccio resistente per forza resistente troviamo quindi il braccio motore al posto della forza motrice metterò quindi tre decimi della forza resistente quindi in altre parole il nostro braccio motore sarà 10 terzi del braccio resistente ovvero 8,3 cm i compiti che vi assegno per la prossima volta sono da consegnare via whatsapp con le indicazioni che vi darò poi entro le ore 20 di domani e sono il test di pagina 177 tranne i quesiti 6, 7 e 8 perché si riferiscono al prodotto scalare vettoriale di vettori che non abbiamo fatto e il test di pagina 208 arrivederci e buon lavoro per la prossima volta e il test per la prossima volta è la prima volta di pagina 218 Grazie.